Il problema sabbia è stato un problema piuttosto amplificato rispetto a quello che era la reale portata del problema. È ovvio che ci sono state giornate particolari su tutto il litorale abruzzese, vento molto forte, che ha portato sabbia anche sulla strada e sul lungomare di Roseto, ha creato dei problemi. Ma alla circolazione non sono stati mai grossi problemi. La sera del 31, già operai del comune, io personalmente alle ore 18 transitavo sul lungomare, mi sono fermato e ho visto che all'altezza di via Palermo si stava lavorando, non ci sono stati intralci. È vero che ci sono dei mucchi di sabbia che stiamo provvedendo a far togliere già da questa mattina con gli operai del comune e quindi non credo che sia stato un grande problema questo. Dalle sue parole si capisce che probabilmente c'è stata una polemica anche un po' strumentale e politica. Sì, in genere vedo queste polemiche che avvengono un po' su tutti i comuni, le ho lette questi giorni di festa, su ogni argomento si cerca sempre di amplificare, di sollevare i polveroni. Ecco, io ripeto, ho passato le vacanze qui, le vacanze per modo di dire perché sono stato qui, presente in comune quasi tutti i giorni, sul lungomare sono passato tutti i giorni, la viabilità era assolutamente tranquilla, c'erano dei mucchi di sabbia che sono stati accantonati e che oggi si stanno togliendo. Ma, ripeto, è un evento eccezionale che è capitato a Roseto come in altre parti del litorale abruzzese e quindi mi sembra che sia una polemica fuori luogo.